Se fate il nome di Grimshaw a chi ne apprezza le opere, si paleseranno in lui tutta una serie di immagini raffiguranti bellissimi paesaggi notturni di città inglesi del 1800, tremendamente reali e incantevoli. Dopotutto Grimshaw ha preso questa sua caratteristica dallo stile pre-Raffaelita, che era altrettanto attento ai dettagli. Dunque, per conoscere questo artista, iniziamo con il nostro video. Le vedute al chiaro di luna in città e sulle strade suburbane e ancora sui moli di Londra, Liverpool, Glasgow, sono abbelliti dalla straordinaria abilità di Grimshaw di ricercare gli effetti dell'illuminazione lunare e di quella artificiale a gas, che gli hanno permesso di catturare l'aspetto emotivo delle atmosfere notturne. Non da subito Grimshaw si dedicherà a questa tipologia di dipinti. La sua carriera iniziale sarà piuttosto classica, con raffigurazioni di ritratti, fiori e animali. Ma la vera arte di Grimshaw si applica nel momento in cui viene a crearsi una vera e propria alienazione del nostro spirito umano, che si trasmuta in quelle strade come se fosse stato preso e trascinato indietro nel tempo. Non era un caso, dunque, che davanti alle sue tele rimanessero a bocca aperta anche grandi pittori contemporanei. Vi racconto un piccolo aneddoto. James Abbott McNeil Whistler, artista statunitense, racconta di come egli si fosse sempre autoreputato il miglior paesaggista dei Chiari di Luna, fino a quando, però, per la prima volta, si trovò davanti a una tela di Grimshaw, evento che gli fece mettere in discussione il tutto. La fortuna, però, non fu proprio amica del nostro pittore. Il vero successo arrivò solamente negli anni 20 del 1900. Pensate, 30 anni dopo la sua morte, avvenuta tra l'altro per Turbercolosi, quando ormai il realismo tornò ad attrarre l'attenzione del pubblico, che si era ormai abituato a quello che era il lascito degli impressionisti. E, dopo tutto, Grimshaw dipinse le tele in uno stile completamente lontano da quello di Pizarro, Monet e compagni, definendo le sue opere in una particolarità veramente attenta al dettaglio, che non lascia i giochi di luce alle impressioni, ma proprio al particolare. E oggi analizzeremo Glasgow Saturday Night, una tela dove la città di Glasgow viene illuminata dalla luna. E la scena è indivisa in due. A sinistra abbiamo delle abitazioni con delle vetrine che emanano una luce calda, che evita ad entrare quasi dentro nei negozi per comprare un bene di prima necessità prima di cena, una bottiglia di vino o un caffè. Mentre dall'altro lato, sulla destra, la luce lunare illumina quello che è il molo del fiume, dove delle imbarcazioni hanno degli alberi, ovviamente alti, che sembrano quasi una foresta proibita, in cui non ci è consentito entrare. La percezione che però ci facciamo di questa città non è reale, poiché Grimshaw evita deliberatamente di rappresentare i problemi sociali all'interno delle sue opere. Sottolineare la povertà e le difficoltà tipiche di ogni città vittoriana sarebbe stato impopolare nei confronti dei suoi clienti, che erano molti e benestanti. Quindi evitando il sentimentalismo, le rappresentazioni ostili dei poveri che lavorano, ci permette di godere delle sue bellissime immagini, avendo però davanti un'istantanea filtrata della vita di allora, alla quale poi venivano aggiunte anche piccole libertà architettoniche, per dare un ulteriore effetto pittoresco. Grazie a tutto questo e al gioco di luci, quindi trasforma una città industriale in una città familiare, con la prenomba che aggiunge un'ambiguità deliziosamente intrigante. L'opera è stata battuta all'asta da Sotheby nel 2008, ad un gentiluomo che l'ha voluto acquistare per 480.000 sterline. Ironia della sorte, visto che Grimshaw subì un brusco declino economico proprio nelle ultime fasi della sua vita, tanto che fu costretto a vendere la seconda casa e ridimensionarsi nel suo studio di Londra. Due brevi accenni sulla vita, prima di chiudere con questo video, nacque nel 1836 e dopo una breve carriera come impiegato nelle ferrovie, abbandonò tutto per dedicarsi all'arte. Spero che anche la pinola di oggi vi sia piaciuta, vi invito a seguirmi anche sugli altri canali, a lasciare commenti e interagire e ci vediamo domani con un nuovo episodio di degli art.